Al Policlinico di Palermo i medici hanno ricucito il braccio a Nicolo Vasile, poi però hanno dovuto distaccarglielo perché sono in sorte delle complicazioni. Il drammatico incidente stradale è accaduto ieri pomeriggio sul ponte Morandi, il viadotto che collega Grigento con Porto Empedocle. Nicolo Vasile, 43 anni, sposato e padre di due figli, in sella a uno scooter, si sarebbe ribaltato sulla carreggiata per cause ancora in corso di accertamento e si è schiantato contro il guardrail. La lamiera gli ha tranciato un braccio, l'arto è volato giù dal ponte, da un'altezza di oltre 50 metri. A lanciare l'allarme sono stati gli automotoristi in transito. Sul posto si sono precipitati le volanti della Polizia, Vigile del Fuoco e l'ambulanza della 118. Vasile è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Grigento, al San Giovanni di Dio. Nel frattempo gli agenti della Polizia e Vigile del Fuoco, con non poche difficoltà, hanno recuperato il braccio dello sfortunato Centauro per poi consegnarlo ai medici. C'è il nostro comio agrigentino. Vasile è stato dunque trasferito sempre in ambulanza al Policlinico di Palermo, dove è stato operato d'urgenza per riattaccare il braccio. Poi le complicazioni. La prognosi sulla vita rimane riservata. I rilievi sul luogo dell'incidente sono stati eseguiti dai poliziotti, che avrebbero ascoltato anche alcuni testimoni. Non esclusa l'ipotesi di un coinvolgimento di un'auto che potrebbe aver tamponato lo scooter di Vasile. Indagini in corso.